I GENI DELLA GENESI Il titolo della conferenza di stasera è I GENI DELLA GENESI. Qualcuno ha fatto un'interessante osservazione facendomi notare che esiste una certa assonanza fra le parole GENI e GENESI. Dal termine GENESI potrete capire che il tema di oggi avrà a che fare con i GENI e con la genetica. Parliamo quindi di origini, ma in particolar modo della filosofia che si cela dietro la teoria della selezione naturale e della scienza dell'evoluzione in generale. Il fondatore di questa teoria moderna fu Charles Darwin, che accettò l'incarico di naturalista a bordo dell'HMS Beagle e che studiò la diversità delle specie durante un viaggio su questo piccolo veliero che stava compiendo il giro del mondo per disegnare le mappe del Sud America. In effetti Darwin non inventò niente di nuovo, perché i concetti cui si riferisce circolavano già da moltissimo tempo, addirittura dal tempo dei Greci. Il nonno stesso di Charles Darwin sosteneva idee di stampo naturalistico. Darwin ricevette anche una formazione teologica e credeva, al tempo in cui prestava servizio sul veliero, che Dio avesse creato specie fisse e immutabili. Come potete notare, secondo la cultura del tempo, si pensava che ogni singola specie esistente sulla Terra fosse stata creata da Dio. E certamente, la scienza naturalistica esclude questa possibilità. Ebbene, mentre Charles Darwin era a bordo del Beagle, fu illuminato dall'idea della selezione naturale, di cui parleremo ora un po' più dettagliatamente. Il concetto di base è il seguente. Se avessimo tre giraffe, per esempio, quelle con il collo più lungo sarebbero selettivamente avvantaggiate, perché potrebbero nutrirsi dai rami più alti. Quindi, verrebbero selezionate e avrebbero una progenie più numerosa che rimpiazzerebbe gradualmente quelli con il collo più corto. Questo è in breve ciò che sostiene la filosofia della selezione naturale. Ma esiste una teoria contrapposta chiamata l'amarchismo. Lamarch sosteneva che le giraffe cercavano di raggiungere i rami più alti e, per questo motivo, il loro collo si allungava. Vedete? Queste erano le due posizioni contrapposte che esistevano al tempo in cui Darwin formulò la sua teoria. Certo, il darwinismo viene riconosciuto come una teoria scientificamente logica, mentre il lamarchismo è ormai stato screditato. Ai miei studenti la metto sempre in questi termini. Gli uccelli volano perché hanno le ali o hanno le ali perché volano? Quale ragionamento è quello giusto? Quale pensate sia corretto? Beh, ovviamente gli uccelli volano perché hanno le ali. Per questo volano. Perciò, bisogna avere le ali per poter volare. E se si hanno ali diverse, uno può volare meglio di un altro. Solo allora la selezione naturale può cominciare ad agire. Gli uccelli non hanno sviluppato le ali perché desideravano volare, altrimenti tutti noi avremmo delle ali. Visto che l'uomo ha sempre desiderato poter volare, giusto? Quindi la scienza ci insegna che un organo deve esistere affinché la selezione possa agire. È abbastanza logico. Ecco perché il darwinismo è superiore all'amarchismo. È interessante quindi notare che la scienza è pronta a riconoscere questo punto. Ma quando si arriva al dunque, spesso ritorna all'amarchismo. Molto interessante. Come certo ricorderete, nella conferenza di ieri sera abbiamo parlato dell'evoluzione dell'uomo. E una delle teorie proposte per spiegare il motivo per cui l'uomo ha cominciato a camminare in posizione eretta sostiene che si è vissuto in un tempo in cui le praterie erano abbondantemente diffuse. Gli uomini non riuscivano a vedere oltre l'erba alta. Quindi cosa fecero? Si alzarono sugli arti posteriori per poter guardare oltre l'erba. Col tempo, questo portò al raggiungimento della postura eretta. Si tratta di darwinismo o di lamarchismo? Questo è il lamarchismo. È interessante, no? Quindi la scienza spara a zero sull'amarchismo, ma vi fa ricorso quando lo ritiene comodo. Di fatto, si dovrebbe cercare una spiegazione diversa per questo fenomeno. Ora, dicevamo che Charles Darwin sviluppò le sue teorie mentre era in viaggio sul brigantino Beagle, ma ebbe qualche difficoltà a renderle pubbliche, in quanto era una persona piuttosto riservata. Fortunatamente per lui, arrivò al suo fianco un altro personaggio. Potete vedere che aveva un'espressione molto più dura della sua. Di nome Huxley, conosciuto anche come Mastino di Darwin. Ebbene, quest'uomo accettò la sfida e si fece paladino del darwinismo nel mondo scientifico. Si ritiene che abbia avuto la meglio in un dibattito con il vescovo Wilberforce, che batte non tanto sul terreno scientifico, quanto su quello dell'eloquenza, si da screditare colui che aveva ridicolizzato e disprezzato la scienza. Come potete notare, quindi, fu l'abilità oratoria a determinare il vincitore, e non il messaggio, cosa alquanto triste. Questo deve essere un monito anche per noi, per il modo in cui affrontiamo certi temi. Ora, Charles Darwin rimase molto colpito quando, dopo aver circumnavigato le coste del Sud America, giunsero a un arcipelago conosciuto come Isole Galapagos. Sulle Isole Galapagos, Darwin trovò alcune creature molto interessanti. Ne abbiamo vista qualcuna ieri sera, come le tartarughe giganti e le magnifiche iguane marine, ma soprattutto i fringuelli. Questi fringuelli erano unici. Alcuni avevano becchi piccoli, altri becchi grandi, altri ancora becchi molto grandi, e ogni tipo di becco era adatto ad un uso specifico. Quindi, per esempio, le specie con i becchi più grandi potevano rompere i semi duri e aprirli, per nutrirsi della parte interna, mentre quelle con il becco più piccolo dovevano nutrirsi di altre cose. Alcune specie avevano addirittura sviluppato una tecnica per usare degli utensili e raggiungere le larve e ciò che si trova all'interno della corteccia delle piante. Perciò, ogni tipo di becco era diverso dagli altri. Ora, questa peculiarità era molto strana. Vedete, sulla terraferma, gli uccelli canori vengono semplicemente classificati così, mentre in quell'isola esisteva una tale varietà di specie. Se consideriamo il periodo in cui Darwin lavorò, la genetica era un campo sconosciuto. Gregor Mendel aveva già elaborato le sue teorie, che però gecevano sotto una pila di foglie impolverate in qualche monastero. Nessuno conosceva i principi della genetica e quindi il modo in cui i caratteri ereditari vengono trasferiti. In più, imperava ancora l'idea che Dio avesse creato delle specie fisse e immutabili. E poi ci fu uno scienziato di nome Linneo che prese tutte le creature conosciute e le classificò secondo il metodo noto come nomenclatura binomiale. Quindi tutto ebbe due nomi. Per esempio, noi siamo Homo sapiens, due nomi. Così ogni creatura ricevette la propria nomenclatura ed era considerata unica. E il numero delle specie aumentò drasticamente fino a raggiungere i milioni di specie conosciute oggi. Ora, quando Charles Darwin vide queste creature pensò non potrebbe essere iniziato tutto da una sola famiglia di fringuelli che si trovava su queste isole da cui poi si sono evolute tutte le altre? Non è forse un'ipotesi plausibile? Sì, lo è. E' alquanto probabile che si tratti di una variazione comparsa su quelle isole. Ma ciò che Charles Darwin disse in seguito fu bene, allora Dio non ha creato specie fisse e immutabili. Anzi, non c'è stata proprio creazione. Quindi Dio è stato estromesso dall'equazione. Era necessario estromettere Dio? Questa è la domanda a cui cercheremo di rispondere stasera. Il punto è che sembrava come se niente fosse immutabile. Ebbene, la scienza ha fatto passi da gigante da allora e oggi possediamo tutta una teoria su come ogni cosa possa essere venuta ad esistenza. Ma partiamo dall'inizio e vediamo cosa insegna la scienza oggi. Come ha avuto origine la vita? Beh, la scienza sostiene che la Terra primordiale era molto diversa da come è oggi. Era presente una certa attività volcanica. L'atmosfera era completamente differente da quella attuale. Di fatto, essa era costituita da gas come metano, ammoniaca, idrogeno, oltre ad acqua, eccetera. Uno scienziato, di nome Stanley Miller, simulò questo tipo di atmosfera. La sottopose a delle scariche elettriche, raccolse tutto ciò che si era formato sul fondo e lo analizzò in laboratorio. Ed ecco riscontrò la presenza di materiale organico. Quindi ipotizzò che in origine, sul nostro pianeta, potesse essere presente una sorta di brodo primordiale contenente innumerevoli molecole organiche che col tempo si trasformarono in modo fortuito in quelle molecole che sono necessarie per la vita, così da dare origine ai primi organismi viventi. Ora, tutto questo sarebbe piuttosto affascinante se non fosse per il fatto che esistono numerose falle. Prima di tutto, l'atmosfera doveva essere priva di ossigeno. E questo è molto importante. Si pensa che l'atmosfera riducente primordiale contenesse idrogeno, ammoniaca, biossido di carbonio, metano e acqua. E da dove provenivano questi componenti? Beh, gli scienziati dicono dai gas volcanici. Ma i gas volcanici sono anche associati a monossido di carbonio e a nidride solforosa. Quindi già qui c'è un'incongruenza. Tuttavia, anche se fosse stata come l'atmosfera attuale, che contiene ossigeno, l'evoluzione delle molecole sarebbe stata impossibile, perché l'ossigeno fa bruciare qualsiasi cosa. L'ossigeno avrebbe distrutto tutto ciò che si fosse sviluppato dal processo di ossidazione. Perciò, gli scienziati concordano sul fatto che dovesse trattarsi di un'atmosfera riducente. Cosa fece quindi Haldane? Sottopose questo tipo di atmosfera delle scariche elettriche e poi raccolse tutto ciò che si era formato sul fondo e lo analizzò. Se avesse lasciato il materiale lì per un ulteriore ciclo, tutto ciò che si era formato sarebbe stato distrutto dal processo successivo. Quindi aveva bisogno di uno strumento per catturare il materiale formatosi? Ci sarà stato un qualche strumento del genere all'epoca sul pianeta? Probabilmente no, ma c'era un altro problema, e cioè che le varie molecole avevano bisogno di diverse circostanze per formarsi. Per esempio, se guardiamo gli aminoacidi, vediamo che ne esistono di diversi tipi e che ogni aminoacido possiede questo gruppo NH2, questo gruppo qui. E questo NH2 doveva derivare dall'atmosfera e in particolare dall'ammoniaca. Il fatto è però che se c'è ammoniaca nell'atmosfera, gli zuccheri non possono formarsi. Quindi ecco un altro grande problema. Inoltre è necessario avere un ambiente molto acido perché si formino e si devono formare solo quelli giusti, il che sarebbe impossibile perché quando si attivano queste scariche elettriche si possono ottenere molecole destrogire o levogire. qualsiasi tipo di amminoacido dove il gruppo ammino è attaccato a uno qualsiasi di questi atomi di carbonio lungo la catena e non necessariamente a questo primo atomo vicino a questo gruppo che è il gruppo carbossilico. Perciò, se c'è anche un solo amminoacido sbagliato lungo la catena, non funzionerà nulla. Quindi questo è il problema principale. Bisogna avere le condizioni ideali e un meccanismo che selezioni solo gli amminoacidi utili alla vita. Anche una sola molecola sbagliata e puff! Ecco che abbiamo un problema. Inoltre, anche se si ottengono gli amminoacidi giusti, come si possono far unire? Sono necessari gli enzimi. Questo vuol dire che abbiamo bisogno di una proteina per fare una proteina. Quindi cosa viene prima? La proteina o la proteina che sintetizza la proteina? Vedete, è un problema serio. Un'altra questione è se si vogliono ottenere i mattoncini del nostro DNA, ciò di cui sono costituiti i nostri geni. Allora sono necessarie condizioni completamente diverse. Perché questi si formino, bisogna togliere tutto l'azoto dall'atmosfera, trasformarlo in una soluzione cianidrica, moltiplicarla per 10, dissolverla nell'oceano, e poi si potranno ottenere queste molecole. Ma non si potrà produrre nient'altro. Se si vogliono sintetizzare di nuovo gli zuccheri di cui abbiamo parlato prima, necessari per la molecola di DNA, come per esempio il ribosio, allora non si può più avere l'ammoniaca. Se non si ha l'ammoniaca, non sarà possibile la sintesi degli aminoacidi. Pertanto dovremmo avere a disposizione molti pianeti per produrre queste sostanze. Non ci si deve meravigliare se la scienza afferma che questo non è possibile, quindi deve essere accaduto nello spazio. Ed ecco che esiste un'altra teoria chiamata panspermia. Ora, questa molecola di DNA apre un'altra questione interessante, perché, anche se producissimo tutti i mattoncini, come si farebbe a disporli in una stringa contenente tutte le informazioni necessarie per la vita? Come si farebbe a farglielo fare? Non è stato mai, ripeto, mai dimostrato in laboratorio. È necessario un enzima molto complesso per creare questi legami così forti in queste molecole e le probabilità che si formino queste molecole sono così remote che si può tranquillamente dire che è impossibile. Pensiamo, per esempio, a quante probabilità possono esserci che, dopo l'esplosione di una bomba sotto una pila di legna, il materiale ricada dal cielo e formi questa perfetta piccola casa del tutto funzionale. Quante probabilità ci potranno essere? Beh, le probabilità sono molto, molto remote. Ipotizziamo che ci siano buone probabilità che accada. In realtà sono molto scarse, anche più basse di questa. diciamo comunque che siano di uno su dieci alla ottantesima. Cosa vuol dire? È un valore molto basso. Dieci alla ottantesima. È la quantità di particelle che, secondo la fisica, sono presenti nell'universo intero. Particelle. Queste includono non solo atomi, ma anche subparticelle, particelle, elettroni, adroni, quark, neutroni, protoni, nell'intero universo. Quanti atomi ci sono nella capocchia di uno spillo? Miliardi e miliardi e miliardi e miliardi e miliardi e miliardi e miliardi, giusto? Quindi immaginate quanti atomi ci sono nell'universo intero. C'è da restare all'ibiti. Ma è solo dieci all'ottantesima. Non è un numero esorbitante a guardarlo bene, ma c'è veramente da restare all'ibiti. Dieci seguito da ottanta zeri. Quindi, queste sarebbero le probabilità. Quante sarebbero le probabilità che un semplice gene si crei per caso? Beh, ci vogliono tre nucleotidi per codificare un amminoacido per formare una proteina. Prendiamo in considerazione una proteina semplice che contiene 100 amminoacidi. L'emoglobina, per esempio, ha 600 amminoacidi. Quindi, prendiamo questa proteina semplice con 100 amminoacidi. Abbiamo bisogno di 300 nucleotidi nella giusta sequenza. Quante probabilità ci sono che questo possa verificarsi per caso? Ebbene, sono una su dieci alla centoventisettesima. Mi dispiace, ma questa è come se... Boom! New York City si fosse formata in seguito a un'esplosione nucleare. È mai possibile? Bisognerebbe avere una tal fede. Diamo un'occhiata a questa molecola di DNA. Si tratta di una ricostruzione perfetta. È costituita da queste due doppie eliche che formano la struttura delle molecole di fosforo, mentre le basi nel mezzo e la loro sequenza forniscono le informazioni necessarie per tutto quello che succede nella cellula. Questi geni vengono chiamati genotipo, mentre la loro manifestazione fisica è il fenotipo. Consentitemi di spiegare questi termini. È fondamentale capire come la scienza descriva la teoria dell'evoluzione in base al sistema genetico. Il genotipo consiste nell'insieme di geni effettivamente presenti in uno zigote, cioè l'ovulo fecondato. Quindi, il mio genotipo è costituito da tutti i geni che possiedo. Tuttavia, non tutti i geni che possiedo verranno espressi fisicamente. La manifestazione visibile dei geni è chiamata fenotipo. Quindi, se volete dare un'occhiata al vostro fenotipo, guardatevi semplicemente allo specchio e lo vedrete. Quello è il vostro fenotipo. Ora, esiste una legge nella teoria dell'evoluzione che afferma quanto segue la selezione naturale può agire solo a livello del fenotipo, non del genotipo. È chiaro? Ripeto. La selezione naturale può agire solo a livello del fenotipo, non del genotipo. Perché? Beh, permettetemi di farvi un esempio. Due uomini stanno camminando in una riserva naturale dove ci sono animali selvatici. Uno dei due è alto e magro, mentre l'altro è basso e piuttosto in carne. A un certo punto, un predatore sbuca fuori dai cespugli e li attacca. Un leone, un orso, quello che volete. Entrambi se la danno a gambe levate. Ma quale dei due pensate che diventerà il pasto del predatore? Quello basso e grasso, giusto? Ok. Quindi basso, grasso, sono cosa? Il fenotipo. Giusto. Allora, il fenotipo basso e grasso non ha la benché minima speranza rispetto al fenotipo alto e magro. Quindi per selezione naturale il basso e grasso perde e l'alto e magro vince. Giusto? Ecco come funziona. Al predatore non importano tutte le altre informazioni contenute nei geni. Gli interessa solamente il vostro aspetto e quanto velocemente correti. Giusto? Tutto qui. Quindi la selezione naturale non agisce a livello del genotipo. Cosa agisce piuttosto sul genotipo? Come cambiano i geni nel tempo? Non per selezione naturale ma per... Cosa? Mutazioni. Esatto. E come si verificano le mutazioni? Sono casuali. Avvengono così. E una volta che trovano espressione nel fenotipo possono essere soggetti alla selezione. Mi seguite? Ora ricordate Charles Darwin non conosceva niente di tutto questo. Permettetemi di semplificare le cose in maniera che tutti possono comprendere. Dunque so che alcuni di voi possiedono nozioni di biologia e altri no. Quindi cercherò di farmi capire da tutti indistintamente. Se parlassi in maniera tecnica riusciresti ad acquisire molte nozioni di ciò che diremo oggi. Quindi se parlo in modo semplice vi chiedo di avere pazienza perché ci sono persone qui che altrimenti avrebbero difficoltà a seguire. Mi sembra corretto, giusto? Bene. Quindi riassumiamo. Questo è il vostro genotipo. L'informazione contenuta nei vostri geni. Nel vostro DNA. Il fenotipo è il vostro aspetto come abbiamo già detto. La selezione naturale agisce a livello del fenotipo non sul genotipo che è soggetto invece al caso al caso per mezzo delle mutazioni. Bene. Mettiamola in altre parole. Qui abbiamo un manuale di istruzioni per costruire un aeroplano. Ok? Un manuale di istruzioni dettagliate per costruire un aeroplano. Il manuale di istruzioni è la metafora di cosa? Del genotipo. Il DNA è il manuale di istruzioni per costruire un essere umano. Giusto? Bene. Il fenotipo invece è l'aeroplano vero e proprio. Ora domanda. Chi ha scritto il manuale? Chi ha scritto il manuale? Ovviamente in questo caso è stato un progettista intelligente giusto? Esatto. Ma nella nostra metafora chi ha scritto il manuale? Il caso. Il caso ha scritto il manuale. Bene. Il caso ha scritto il manuale. Incredibile. Con tutte le informazioni per costruire un aeroplano. affascinante, no? È decisamente incredibile, straordinario. Ma andiamo fino in fondo. Ho un libro. Eccolo. Supponiamo, per ipotesi, che questo libro sia venuto ad esistenza per caso, per mutazioni, e che tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno per costruire qualsiasi cosa siano qui dentro. Nel nostro caso, tutte le istruzioni per costruire il mio aeroplano sono comparse per caso e sono in questo libro. È grandioso. Ora prendo il mio libro e lo poso qui, sul pavimento. Ecco. È nella mia libreria, qui. E adesso aspetto che compaia l'aeroplano. Dopotutto possiedo tutte le informazioni. Sono arrivate per caso e sono tutte lì. Ora, non ho da aspettare altro che l'aeroplano compaia. Per quanto aspetterò? Per quanto aspetterò? Andiamo. Per sempre. Aspetterò per sempre, all'infinito. È sufficiente perché le informazioni si materializzino da sole, sì o no? No. Se non ho un meccanismo che converta queste informazioni in un aeroplano, il mio aeroplano non si materializzerà mai. Giusto o no? Ok. Quindi il mio libro, anche se fosse venuto ad esistenza per caso, è completamente cosa? Inutile. Grazie. Ok. Ora che abbiamo risolto il problema, riflettiamo un attimo. Dunque, il mio libro è assolutamente inutile se non ho un modo per convertire le istruzioni in un aeroplano. Ora, di cosa ho bisogno per convertire le istruzioni in un aeroplano? ditemi. Beh, ho bisogno di qualche fabbrica, no? E ho bisogno anche di qualcuno in grado di interpretare in maniera intelligente il contenuto del libro per costruire l'aeroplano. Inoltre, ho bisogno di qualche linea di assemblaggio e di alcuni operai. o se non ho operai, di cosa ho bisogno? Di strumenti e macchine. Robot, se preferite, che facciano il lavoro per me. Giusto? Domanda, dove o come sono stati convertiti i meccanismi di progettazione? Come è venuta ad esistenza la fabbrica? e da dove sono venuti fuori i robot che costruiranno il mio apparecchio che poi collauderò? In base alla nostra metafora, la selezione naturale inizierà a operare solo quando sarà successo cosa? Solo quando l'aeroplano sarà già stato creato. Quindi, com'è nato il meccanismo per convertire le informazioni in un aeroplano? Ditemi, avete due possibilità. Due possibilità. Perché la selezione naturale agirà solo sull'aeroplano già formato. Io devo solo constatare se vola o meno, giusto? Quindi, com'è nato il meccanismo? Datemi le due possibilità. La prima è? Quale? Il caso. La seconda è? Un progetto. Un progetto. Queste sono le uniche alternative. O il caso o un progetto creativo. Queste sono le uniche due possibilità che abbiamo. Ok. Quale delle due sceglie la scienza? Il caso. La scienza sceglie il caso. Bene. Ora, quando leggiamo il DNA ci troviamo davanti a una situazione piuttosto complessa. Di fatto, non leggiamo nemmeno per intero il gene, ma solo porzioni chiamate introni ed esoni. Gli esoni vengono trasportati, tradotti e trasferiti in una sorta di fabbrica altamente sofisticata dove un robot trasforma le informazioni contenute nel gene. In altre parole, le legge e le affida ad un'altra sorta di messaggero che attraversa la cellula e si combina con una struttura chiamata ribosoma. Una sorta di linea di assemblaggio che produce una proteina che verrà manipolata e avvolta da un'altra linea di assemblaggio. e trasportata con una specie di sistema ferroviario nel punto in cui serve e collocata nella posizione opportuna. Come si è sviluppato tutto questo meccanismo? E non abbiamo ancora niente di concreto in mano, lo stiamo ancora costruendo. Quindi, come è nato questo meccanismo? Ditemi. Avete due possibilità. Il caso o un progetto. perché la selezione naturale agisce solo su un soggetto già esistente. Wow, c'è da restare allibiti. Volete vedere come funziona? Bene, diamo un'occhiata a questo video della Illustria Media intitolato Il mistero della vita svelato le prove scientifiche di un progetto intelligente. Potete trovarlo in vendita su internet nel sito del ministero illustramedia.com Grazie all'animazione computerizzata possiamo entrare in una cellula e osservare come funziona questo straordinario sistema. Una volta entrati nel nucleo della cellula possiamo vedere filamenti di DNA strettamente avvolti su se stessi. Il DNA è il deposito delle istruzioni necessarie per sintetizzare tutte le proteine in un organismo. Durante il processo chiamato trascrizione una molecola per prima cosa srotola una sezione di DNA per rendere accessibili le istruzioni genetiche necessarie per la sintesi di una specifica molecola proteica. Un altro dispositivo poi copia queste istruzioni per formare un'altra molecola che prende il nome di RNA messaggero. Una volta ultimata la trascrizione l'esile filamento di DNA trasporta le informazioni genetiche fuori dal nucleo attraverso un complesso sistema di pori una sorta di guardiani del traffico da e verso il nucleo della cellula. Il filamento di DNA messaggero raggiunge poi una struttura formata da due subunità chiamata ribosoma dopo essersi ancorato saldamente al ribosoma a inizio il processo di traduzione. Nel ribosoma una linea di assemblaggio molecolare costituisce una specifica sequenza di aminoacidi. Questi aminoacidi vengono successivamente trasportati da altri componenti della cellula e uniti l'uno all'altro in catene lunghe anche centinaia di unità. La loro sequenza determina il tipo di proteina prodotta quando la catena è completa viene trasferita dal ribosoma a un dispositivo di forma cilindrica che contribuisce ad avvolgerla nella forma più adatta alla funzione che dovrà svolgere. E tutto succede come? Per caso o secondo un progetto? Una volta sintetizzata in proteine questa catena viene rilasciata e scortata da un altro complesso molecolare fino a raggiungere la giusta collocazione. Quando si pensa a quello che succede in una cellula con il DNA e a tutto il sistema enzimatico necessario per produrre questa molecola c'è da rimanerni allibiti e quando attraversa quei pori nucleari si muove con una tale precisione che nient'altro può entrare e uscire mentre questa molecola passa da una parte all'altra. Tutto funziona con una precisione e una coordinazione sorprendenti o un solo errore e saremmo ridotti a esseri vegetali. E tutto succede per caso o secondo un progetto? perché fin quando quella proteina non è effettivamente lì la selezione naturale non può stabilire se funzionerà o meno. Ora qualsiasi modifica dei geni del genotipo che abbia ripercussioni sul fenotipo avviene per caso per mezzo delle mutazioni. Quindi tornando al mio manuale eccolo qui se questo manuale contiene le istruzioni per costruire un aeroplano e le voglio cambiare per costruire un aeroplano diverso come devono avvenire questi cambiamenti? Per caso giusto? Avete capito? Per caso o secondo un progetto o l'uno o l'altro. Abbiamo due tipi fondamentali di mutazioni le mutazioni puntiformi e le mutazioni cromosomiche. Le mutazioni puntiformi implicano la variazione di una sola base nucleotidica quindi si può verificare una sostituzione di una base con un'altra un'aggiunta o una rimozione. Ora abbiamo già detto che il codice DNA è costituito da triplette abbiamo per esempio l'adenina la guanina la timina la citosina eccetera lungo tutta la sequenza abbiamo quattro nucleotidi poniamo di rimuoverne uno ne rimuoviamo uno lo togliamo invece di avere le sequenze A-G-T G-A-G G-C-A avremo A-G-T A-G-G C-A-T T-C-A G-G-C più una T questo vuol dire che tutto il messaggio dalla seconda tripletta in poi sarà diverso. Cosa succederà? Cerchiamo di semplificare le cose usiamo parole di tre lettere the cat and the hat togliamo la C e la nostra frase diventerà De-A-T-A-T-T-E-A-T questo vuol dire che la mutazione avrà prodotto frammenti senza senso tratti dalle informazioni genetiche giusto? Questo è il motivo per cui le mutazioni sono generalmente nocive incredibilmente nocive bene questa non è una mutazione è solo un'immagine simpatica ma le complesse caratteristiche progettuali che si celano dietro a questo animale sono veramente sbalorditive esiste una qualche mutazione che sia utile? La scienza sostiene di sì si cita ad esempio l'anemia a cellule falciformi per dire che sì quella è una mutazione utile sapete se avete questa malattia l'anemia a cellule falciformi e vivete in un paese dove è presente la malaria il parassita della malaria non può colpire queste cellule falciformi e la gente che ne è affetta non contrae la malaria così facilmente come altri ecco quindi una mutazione positiva? oh no non è positiva chi è affetto da anemia falciforme solitamente soffre molto soffre molto quindi non è assolutamente una mutazione positiva il caso vuole che se foste esposti al rischio di malaria staresti un pochino meglio di chi è malato di malaria ma sempre malati saresti perciò non esistono affatto mutazioni positive ora immaginiamo la prima minuscola cellula che viene ad esistenza solo per caso estremamente improbabile queste molecole non si sarebbero create per caso in circostanze diverse ma anche se fosse successo sarebbero in grado di generare la vita? estremamente improbabile dovreste immaginare boom casetta boom casetta boom casetta boom casetta migliaia e migliaia di volte e ci dovete credere veramente perché a questo stadio le uniche possibilità sono o il caso o un progetto poi accidentalmente alla fine di tutto compare una cellula a questo punto abbiamo una cellula ora da quante cellule siamo composti? migliaia e sono tutte diverse come si può spiegare che un piccolo organismo unicellulare abbia dato origine grazie all'evoluzione a un organismo pluricellulare? allora un tizio di nome Heckel uno scienziato tedesco afferma beh non è così difficile ecco cosa è successo una cellula si è divisa e come si è divisa è un altro paio di maniche ma lasciamo perdere si è divisa dicevamo poi le cellule si sono riunite insieme a formare una sfera che alla fine ha assunto questa struttura che è il risultato del movimento della sfera di cellule ma come si muoveva? questo è un altro bel enigma ma lasciamo perdere supponiamo poi che si sia formata una fessura che all'inizio fosse così e che col tempo sia passata da una parte all'altra della struttura otterremmo quindi il modello base di ogni organismo vivente pluricellulare come noi per esempio noi abbiamo questo aspetto con una fessura che attraversa tutto l'organismo abbiamo un canale che ci attraversa da parte a parte giusto? un'apertura è la bocca e l'altra beh lo potete immaginare quindi questo è il modello base di un organismo ora riflettiamo un attimo su questo se una cellula contenesse informazioni genetiche e si dividesse se poi le due cellule risultanti si riunissero entrambe avrebbero le medesime informazioni genetiche giusto o no? e se si dividesse un'altra volta avrebbe ancora le stesse informazioni genetiche se poi si dividesse ulteriormente e formasse una sfera di cellule queste avrebbero tutto il medesimo bagaglio genetico non importa quante volte la si divida le informazioni genetiche sarebbero sempre le stesse Heckel dice possiamo constatare che questo è accaduto durante l'evoluzione perché gli embrioni dei vari animali sono simili certo a guardarli non possiamo dargli torto sebbene lui sia stato addirittura censurato ai più alti livelli per questo ma come si può spiegare questo grande esplode cellule che cambiano per mutazione ora supponiamo pure che una mutazione modifichi la forma di una cellula supponiamo che sia possibile non è però quello che vogliamo il nostro obiettivo è quello di sviluppare cellule diverse prendiamone ad esempio due una cellula muscolare e un neurone due cellule completamente diverse esistevano in principio sì o no? mettiamo che una piccola goccia di protoplasma cominciò a vagare per l'oceano esisteva forse già una qualche cellula muscolare o un neurone? sì o no? no sarebbero arrivati più tardi giusto? quindi come avrebbe potuto la cellula muscolare o il neurone ottenere le proprie informazioni genetiche? vedete una cellula muscolare deve possedere geni che dicono tu sei una cellula muscolare e un neurone deve avere dei geni che dicono tu sei un neurone fila il discorso? ok ma nessuna di queste due cellule esisteva in principio diciamo però che la prima cellula aveva questo aspetto allora questo giustificherebbe la prima forma ma non quella successiva da dove è venuta fuori la seconda forma? quindi ciò di cui abbiamo bisogno è un gene che dica yuhu ora tu sei un neurone è chiaro fin qui? questo però non è sufficiente se anche avessi un neurone nel mio corpo e una cellula muscolare qui nel braccio a cose mi servirebbero se non comunicassero mai fra di loro? mi servirebbero a qualcosa? no mi servirebbe a qualcosa avere cellule muscolari e neuroni tutti all'aria infusa nel mio corpo? sì o no? certo che no dove voglio che stiano i miei neuroni? beh li vorrei al posto giusto per esempio per studiare sarebbe utile averli tutti qui qui nel cervello no? e sollevare qualcosa sarebbe piuttosto difficoltoso farlo con i neuroni quindi preferireste che le cellule muscolari siano qui nel braccio giusto? ok perciò come faccio a dire alla cellula i geni per i muscoli devono essere spostati qui e i geni per il cervello devono essere spostati quassù come faccio a comunicarlo al mio cervello o ai miei muscoli? beh ho bisogno di un interruttore di un interruttore se ho due punti luce uno lì e uno là e voglio che quello sia acceso e quell'altro spento oppure il contrario di quanti interruttori ho bisogno? due giusto dunque ora avrei bisogno di un interruttore perché ho due cellule ma le cellule originali non erano di due tipi diversi quindi non avevano bisogno di questo interruttore la mia domanda quindi è da dove è saltato fuori il gene diverso? stiamo parlando del genotipo com'è venuto ad esistenza? due possibilità caso o progetto ricordate? e compare una casetta da dove è saltato fuori l'interruttore? in realtà avremmo bisogno di due interruttori da dove sono saltati fuori? boom casetta e boom casetta ecco da dove sono spuntati fuori questo è quello che dobbiamo credere non ci sono altre possibilità assolutamente nessun'altra possibilità è questo meccanismo così complesso per attivare o disattivare i geni si è sviluppato per caso o per un progetto e non è tutto abbiamo bisogno di un gene che dica tu sei fatto così e un altro gene che dica tu sei fatto cos'ha quindi due geni abbiamo bisogno di un gene che dica tu attivati eppure tu attivati e sono altri due geni cioè due interruttori e non è ancora tutto abbiamo anche bisogno di geni che controllino l'aspetto fisiologico in modo che questo funzioni diversamente da quest'altro e poi abbiamo bisogno di geni che controllino lo sviluppo embrionale delle cellule in maniera tale che lavorino cooperativamente dunque da dove vengono questi geni stiamo parlando di genotipo la selezione naturale non può agire sull'organismo già esistente boom casetta boom casetta boom casetta boom casetta e così di seguito per un'intera settimana c'è bisogno di un bel po' di fede bene in questa prima parte abbiamo parlato di come nascono i geni abbiamo visto come possono venire ad esistenza solo per caso e con probabilità veramente bassissime ma abbiamo anche un altro problema ed è quello della cosiddetta complessità irriducibile riferita a qualcosa di tanto complesso che deve essere completo prima di poter funzionare ma deve anche essersi formato per caso per esempio un'ala per volare o una piuma per sostenere l'uccello in aria devono essersi formate e aver cominciato a lavorare prima ancora che si potesse testare il loro funzionamento giusto? quindi da dove sono venute fuori queste strutture? queste sono domande che mettono al tappeto il darwinismo come potete vedere in questa immagine ho un quesito per voi supponiamo che abbiate scoperto un processo biochimico estremamente complicato in un volatile qualcosa di molto molto complicato come il ciclo di Krebs per esempio alcuni degli studenti qui presenti sapranno che sono necessari moltissimi geni e numerosissime reazioni perché il ciclo di Krebs funzioni poi scoprite che il ciclo di Krebs può essere riscontrato in questo rettile e in questo insetto e in questo granchio e in questo verme e in questo echinoderma e in queste spugne wow il ciclo di Krebs funziona in tutti questi organismi e questo cosa ci dice? ci dice che tutti questi organismi devono essere in qualche modo correlati e siccome un volatile e una spugna sono estremamente diversi ciò vuol dire che questo sistema altamente complesso deve essere esistito sin dal principio wow perciò se prendiamo in considerazione tutti i processi chimici comuni a tutti gli esseri viventi dobbiamo concludere che siano esistiti sin dal principio wow è come dire boom New York City boom New York City con tutti gli ascensori già funzionanti e le porte con le serrature e il suono delle sirene e i lavori pubblici tutto già lì venuto dal caso bisogna veramente avere una gran fede passiamo ora alla selezione la selezione elimina i fenotipi devianti e normalizza la popolazione della selezione stabilizzante prendiamo in considerazione giusto un tipo di selezione come funziona? elimina i fenotipi devianti per esempio mettiamo di avere due aeroplani uno vola bene l'altro no ne selezioneremmo uno e scarteremmo l'altro ecco cosa faremmo questo è il concetto di selezione trasferiamo il discorso nell'ambito della biologia prendiamo la farfalla biston betularia siccome la propria specie aveva sviluppato i geni per il pigmento scuro la biston betularia si è adattata alle aree industriali dell'Inghilterra che andavano via via scurendosi a causa della foligine questa è la teoria che viene proposta e a suo supporto c'è l'immagine di una farfalla chiara e una farfalla scura su sfondo chiaro o viceversa di una farfalla scura e di una farfalla chiara su sfondo scuro gli scienziati sostengono la farfalla è cambiata a causa della foligine in realtà è una menzogna non è andata così non è assolutamente andata così le hanno messe su sfondi chiari e scuri non è questo che è successo in realtà è solo un'ipotesi ma va bene seguiamo il loro ragionamento è una teoria interessante ora supponiamo che l'area circostante fosse in generale scura quale tipo di farfalla avrebbe avuto maggiori possibilità di sopravvivere? forse quella chiara no? no quella scura perché? perché gli uccelli non l'avrebbero vista quindi gli uccelli sarebbero arrivati e avrebbero mangiato quella chiara cosa sarebbe accaduto a quella chiara? alla fine sarebbe scomparse e come chiama questo fenomeno la scienza? estinzione la selezione naturale eliminerebbe quei genotipi che non potrebbero sopravvivere in determinate circostanze ok facciamo un po' di matematica siamo partiti con quante farfalle? due la selezione naturale ne ha eliminata? una quante ne sono rimaste? una ok la selezione naturale le ha aumentate o diminuite? diminuite giusto la selezione naturale ne ha prese due ne ha eliminata una e ne ha lasciata una ora la mia domanda è questa come può un processo come la selezione naturale che elimina e riduce creare e far aumentare? perché siamo partiti con pochi animali e siamo arrivati a innumerevoli specie in tutto il pianeta giusto? com'è possibile? non si può usare un meccanismo che riduce e riduce per far aumentare e aumentare ancora non ha senso nel passato c'erano molte più varietà di quante ce ne siano oggi quindi la selezione naturale sta sicuramente agendo ora qui possiamo vedere la famiglia dei cani abbiamo cani piccoli cani grandi con corporature diverse orecchie di forma diversa e tutte queste piccole strane creature guardate la forma delle orecchie lunghe cascanti in questo segugio le orecchie del colli e tutti i vari tipi di pelo che vediamo qui e in generale nella specie canina ovviamente l'antenato tutti questi cani discendono dal lupo deve aver avuto i geni per tutte queste caratteristiche no? i geni dovevano esserci ora la domanda è da dove sono venuti questi geni? ci sono due possibilità o dal caso o da un progetto per tutte queste razze non può essere stata la selezione naturale perché la selezione naturale non crea niente bensì opera una cernita fra caratteristiche già esistenti nel passato si sarebbe detto che ciascuna di queste chiocciole appartenessi a una specie diversa oggi sappiamo che appartengono tutte alla stessa specie in determinate circostanze vengono attivati alcuni gruppi di geni e in altre circostanze ne vengono attivati altri quindi questa in realtà è una sola specie alcune farfalle per esempio assumono un aspetto diverso a seconda della stagione vediamo qualche altro caso questo piccione ad esempio deve effettivamente possedere tutti i geni per ogni razza discesa dal piccione selvatico quindi abbiamo i piccioni grandi piccioni piccoli neri bianchi bizzarri anche i piccioni più stravaganti discendono dalla razza selvatica da dove sono venuti fuori questi geni? o sono il frutto di un progetto oppure sono comparsi come ricordate? boom casetta boom casetta boom casetta questo è quello in cui ci tocca credere in termini di probabilità guardate qui quante specie da nere a bianche da nere a bianche da piccole a grandi questa è una creatura interessante è nota col nome di quagga è un tipo di zebra ormai estinta che aveva le striature solo fino a un certo punto del corpo si è estinta un bel po' di anni fa un giorno fu trovata una pelle in un museo e mentre la stavano ripulendo l'imbalsamatore scoprì che wow c'erano ancora alcuni vasi sanguigni attaccati al tessuto ormai essiccato contenenti qualche particella di sangue quindi cosa fecero? ne fecero analizzare il DNA e quando ricevettero i risultati ne furono sorpresi perché il DNA era identico a quello della zebra comune che conosciamo oggi wow allora presero esemplari di zebra comune e li allevarono nell'ambito di un programma che mirava a riportare in vita il quagga e l'hanno riportato in vita ora possiamo parlare di evoluzione o si tratta semplicemente di una varietà nell'insieme dei geni? cosa ne pensate? era solo una varietà nell'insieme dei geni qui abbiamo due coccinelle quella tipica rossa e nera e una tutta nera in origine si riteneva fossero due specie fino a quando scoprirono che ops una compariva in autunno e l'altra in primavera è chiaro perciò che in questa creatura sono presenti due gruppi di geni uno viene attivato in autunno e l'altro in primavera quindi qui abbiamo due fattori due possibilità in altre parole due geni che codificano caratteristiche diverse da dove vengono questi geni? dal caso o dal progetto? queste sono le uniche possibilità come abbiamo visto finora ora questi sono insetti gli insetti si sviluppano in diversi stadi all'inizio sono larve come è fatta una larva? sembra un verme poi c'è la pupa che assomiglia a un piccolo sacchettino appeso la pupa poi diventa una farfalla o qualche altro insetto wow questo vuol dire che ci deve essere un'intera batteria di geni che codificano le caratteristiche di tutti questi organismi così diversi se voi non sapeste niente di insetti e vi dessi un grosso bruco non lo classifichereste come appartenente a una specie completamente diversa da quella della farfalla? sì o no? ma certo allora da dove vengono quei geni che in determinate circostanze codificano le caratteristiche del bruco e cosa ne è dopo di quei geni? spento poi viene attivato un altro gruppo di geni del DNA ed ecco la pupa poi anche questi geni vengono disattivati e viene attivato un altro gruppo ed ecco una farfalla tre tipi completi di geni sono presenti in quell'organismo ciascuno creato per caso o grazie a un progetto perché la selezione naturale non agisce ancora a questo livello wow stupefacente quindi se vogliamo avere un topo che riesca a mimetizzarsi con l'ambiente come il cosiddetto topo dalle tasche della California su uno sfondo chiaro o su uno sfondo scuro dobbiamo avere due gruppi di geni ogni volta boom casetta conigli che cambiano colori a seconda della stagione boom casetta boom casetta lucertole che fanno altrettanto insomma qualsiasi processo che modifichi il genotipo per aumentare le varietà la scienza ovviamente ha riflettuto su questo e ha detto beh effettivamente questo è un problema un grosso problema se il DNA non può essere controllato per mezzo della selezione naturale tutto succede per caso e i geni si sviluppano per caso poi la selezione naturale interviene per distruggerne una parte e mantenerne altre ma così facendo le variazioni vanno diminuendo come facciamo invece a farle aumentare è un problema a un certo punto a qualcuno è venuta un'idea trovato le variazioni aumentano grazie alla riproduzione sessuale beh un'idea carina quindi uno dei processi che possono modificare il genotipo aumentando così le variazioni è la riproduzione sessuale ma come funziona? deve avvenire comunque per caso perché se i bebè non sono effettivamente nati a seguito dell'atto sessuale non possiamo avere un numero maggiore di variazioni fila il discorso? riflettiamoci un attimo la fecondazione tutto il processo di riproduzione sessuale la meiosi uno dei processi strutturali più complessi la legge della segregazione degli alleli il crossing over tutto insomma è frutto del caso maschio e femmina venuti dal caso wow perché a meno che non si abbia un maschio o una femmina che si accoppino e il frutto della loro unione non sia effettivamente nato non possiamo avere alcun aumento della variazione genetica quindi come si è verificato tutto quanto fino a questo punto? abbiamo due possibilità il caso o un progetto ora cosa dice la Bibbia? la Bibbia dice Dio li creò maschio e femmina giusto? e tutti sappiamo che qualsiasi essere viene generato dalla femmina giusto? c'è qualcuno qui nato da un maschio? c'è nessuno? no? ma la Bibbia dice che Eva è nata da da chi? da Adamo ha forse una logica scientifica questa cosa? non sarebbe dovuto essere Adamo a nascere da Eva? sì o no? certo questo sarebbe stato il ragionamento più logico ma permettetemi di dirvi una cosa Eva non poteva che nascere da Adamo perché? beh mettiamola in questi termini così come sono signore che vi piaccia o no possiedo un gene necessario per generare una donna voi invece avete un gene necessario per generare un uomo? no? cosa vi manca? il cromosoma Y io ho il cromosoma X ma a voi manca il cromosoma Y quindi non possedete tutti i geni necessari per generare un uomo lo dico sempre a mia moglie non dimenticartelo e lei si arrabbia tantissimo quindi Eva non poteva che nascere da Adamo la Bibbia ha ragione su questo ma la riproduzione sessuale e tutti i processi associati a essa dovevano verificarsi per caso vediamo cosa succede ecco qui un cromosoma supponiamo che questo provenga da un papà e quest'altro accanto uguale provenga da una mamma hanno geni simili ma diverse varietà alleliche quindi ognuno di noi possiede 23 coppie di cromosomi metà provenienti dalla madre e metà dal padre che durante la meiosi si allineano in questo modo questo processo può essere paragonato alla sistemazione delle lettere in un libro non crea un aeroplano fino a quando l'aeroplano non viene costruito non posso sapere cosa stia succedendo sto solo mischiando delle lettere è qualcosa che non ha ancora alcun significato in termini di selezione naturale si uniscono si dividono per poi fare qualcosa di stupefacente si scambiano informazioni genetiche wow quindi quando io produco una cellula germinale o mia moglie una cellula uovo e queste due si uniscono questo processo ha già avuto luogo incrociando i geni ereditati da mia madre e da mio padre creo un altro mix di geni wow non è mica facile è necessario un enzima che scorra lungo il DNA e poi un altro enzima che lavori come una forbice e che tagli un frammento di ciascun cromosoma e poi un altro enzima che riduca rispettivamente queste sequenze sull'altro cromosoma nel frattempo questa struttura si sarà srotolata e si sarà formato un groviglio quindi sono necessari enzimi che riducano il carico di stress un'organizzazione magnifica alla fine bisogna risaldarli insieme in modo che si sistemino esattamente nel posto giusto e se un nucleotide viene tagliato nel punto sbagliato e ce ne sono milioni coinvolti in questa reazione in tutta la cellula se un frammento un nucleotide viene tagliato nel punto sbagliato dicevo il gene legge invece di essere un umano vi ritrovate a essere un vegetale non sono ammessi errori non sono ammessi errori wow e questo è come si presenta il cromosoma originale deve essere srotolato e affinché questo accada devono esserci rianvolgimenti e spirali e ricombinazioni si tratta di un sistema estremamente complesso eppure tutto ciò che fa è di riposizionare le lettere di un libro è come prendere il programma di un computer ritagliarne delle parti e metterle da una parte non si produce alcunché fin quando quella cosa non viene effettivamente costruita quindi come si è sviluppato questo meccanismo come è potuto svilupparsi questo meccanismo estremamente complesso così come lo avete appena visto nel video per caso o per un progetto queste sono le due uniche possibilità in queste foto abbiamo dei pisci ossei d'acqua dolce notate che non hanno occhi la scienza direbbe che si tratta di una nuova specie questa è una nuova specie interessante qui invece abbiamo un coleottero cieco delle grotte poi una ragosta cieca una salamandra cieca e uno scarafaggio cieco tutte nuove specie tutte nuove specie sapete se alle Hawaii si formasse un'altra isola ben presto gli scarafaggi invaderebbero le fessure fra le rocce in pochi mesi poi quelli che avessero colonizzato le grotte non avrebbero gli occhi evoluzione? non penso proprio credo piuttosto che in questa determinata situazione senza luce non è necessario che si sviluppino gli occhi e i geni che hanno tutti questi begli interruttori non fanno altro che spegnerli si tratta quindi di una nuova specie? assolutamente no sono semplicemente specie modificate grazie ai geni e al loro sistema di interruttori che si è sviluppato come? abbiamo due possibilità per caso per un progetto esistono anche uccelli che hanno perso le ali il rallo atero i pellicani i cormorani e altri che vivono in isole perché? perché vivendo su isole lontane se prendessero il volo il vento li trascinasse via impedendogli poi di ritrovare la propria isola prima o poi questa sarebbe la loro fine così queste creature hanno sviluppato molto presto l'incapacità di volare si tratta di una mutazione? non credo credo che si tratti semplicemente di spegni 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 in questa foto abbiamo un gallo che ha perso le piume perché non ha le piume? perché questa è una mutazione notate la differenza? questa è una mutazione qualcosa è andato storto e al gallo non crescono le piume è una cosa diversa tuttavia si possono ottenere tutte queste diverse variazioni semplicemente attivando o disattivando dei geni in quest'altra foto abbiamo un incrocio fra una zebra e un cavallo quindi si possono ottenere diverse varianti incrociando animali diversi qui abbiamo un incrocio fra un leopardo e un jaguaro e ancora un incrocio fra una tigre e un leone viene chiamato ligre wow animale interessante abbiamo anche un incrocio fra un delfino e una balena in inglese viene chiamato wolfing l'incrocio fra un cavallo e una zebra viene chiamato zebrallo e l'incrocio fra una zebra e un asino zonchi ora la maggior parte di queste creature non sono fertili ma quando si incrociano insetti o piante non è detto potrebbe funzionare questo è un incrocio fra una pecora e una capra si può ottenere in maniera abbastanza naturale si prendono delle cellule da una una cellula dall'altra si uniscono e si impiantano in una madre surrogata il risultato è un animale in parte capra in parte pecora 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 una catastrofe quindi tutti questi geni programmabili che consentono lo sviluppo di nuove varianti possono venire ad esistenza solo per caso o per un progetto ma possiamo fare anche in un altro modo se prendiamo due cromosomi e li uniamo otteniamo un cromosoma più lungo questo processo è chiamato tandemfusione ecco un animale frutto di questo tipo di fusione l'Eland la più grande antilope al mondo notate le striature che ha sui fianchi e le corna attorcigliate vedete la più grande antilope al mondo qui c'è un'altra simile il kudu con striature sui fianchi e corna attorcigliate ecco la foto di un esemplare simile questa è la femmina del kudu poi abbiamo il kudu minore che è una varietà più piccola stesse striature il maschio ha anche le corna ed ecco un altro animale interessante si direbbe che siano due specie distinte questa è la femmina del niala con le striature e questo è il maschio si possono vedere striature molto leggeri qui e le tipiche corna attorcigliate poi abbiamo il bongo sempre con le striature e le corna attorcigliate ed ecco il sitatunga un antilope di piccola taglia con striature e corna attorcigliate tutte queste creature sono il frutto di questa fusione pensate che appartengano tutte alla stessa specie o a specie differenti beh tutti pensano che appartengano a specie differenti in realtà presentano tutte la stessa anomalie quindi direi che sono piuttosto varietà diverse della medesima specie ma andiamo un pochino oltre qui abbiamo un lupo il lupo ha 76 cromosomi più di quanti ne abbiamo noi e queste sono le diverse razze di lupi che si incrociano così facilmente da non cambiare molto di aspetto ma quando passiamo alla volpe è un altro paio di maniche sono tutte diverse per di più le volpi possono avere dai 38 ai 78 cromosomi in quelle che ne hanno 38 i cromosomi sono molto più lunghi in quelle che ne hanno 78 sono molto corti i ricercatori li hanno studiati e hanno detto wow sai che cosa è lo stesso patrimonio genetico solo riposizionato in maniera diversa ora la domanda è questa se guardiamo tutte queste creature e i cani selvatici e tutte le razze esistenti oggi l'afgano il pastore belga il papillon sappiamo che si tratta di una sola specie con diverse varietà e qui abbiamo quelli selvatici e queste sono tutte specie diverse di fatto però hanno tutti lo stesso patrimonio genetico solo che è posizionato in maniera leggermente diversa non si tratta di materiale nuovo ma solo organizzato in modo diverso la domanda quindi è di tutti questi cani selvatici e non volpi coyote quanti ne sono saliti sull'arca una coppia una coppia e tutte queste varietà sono derivate da quell'unica coppia di tutte quelle antilopi che ho menzionato prima quante sono salite sull'arca ma questo è un trabocchetto sette coppie perché? perché erano animali puri mentre questi sono impuri ad ogni modo il punto è che il numero di esemplari che è stato necessario far salire sull'arca era incredibilmente basso se prendiamo lo sciacallo la volpe il coyote si tratta di tre specie aggiungiamo mentalmente anche il lupo ora lo sapevate che il coyote può accoppiarsi con il lupo? in Canada nel Canada centrale dove sono piuttosto grandi i coyote si accoppiano con i lupi lungo la costa il coyote è più piccolo non si accoppia con il lupo il coyote comunque è in grado di accoppiarsi con il lupo e gli sciacalli potrebbero accoppiarsi con i coyote se andate in Australia trovate il dingo e il cane comune molto simili fra loro di fatti il dingo si sta estinguendo perché? perché si accoppia col cane quindi quindi la domanda è cos'è il dingo? il dingo è un cane esatto vedete a noi scienziati piace suddividere tutto in centinaia e centinaia di specie quando in realtà una specie è molto più di quanto si pensi tutto ciò di cui abbiamo bisogno è una coppia di esemplari selvatici e tutti i canidi discendono da quella coppia i dingo le volpi i cani tutti discesi da quell'unica coppia dell'arca e tutto può avvenire così rapidamente perché i geni sono già lì per esempio se prendiamo due cromosomi corti e li uniamo per formare un cromosoma più lungo vorrebbe dire usare le informazioni disponibili in modo diverso è quello che succede nei topi ci sono topi che hanno pochi cromosomi ma più lunghi e ci sono topi che hanno cromosomi più corti in ogni caso la quantità di informazioni è la stessa nei due corredi perciò il topo domestico e quello di campagna hanno semplicemente lo stesso patrimonio genetico organizzato però in modo diverso quindi quanti topi salirono sull'arca fra tutte queste varietà o una coppia molto interessante e si possono riscontrare ulteriori differenze a livello di eterochromatina o di altri aspetti curiosi esiste qualcos'altro che può accrescere le varianti ci sono geni che chiamiamo trasposoni che possono prelevare frammenti di informazioni e spostarle in un altro punto del DNA oh credo che non sia una cosa semplice tutto questo accade a livello genetico bisogna tagliare un frammento di gene trasportarlo in un altro punto fare un taglio separare il DNA inserire il frammento selezionato richiudere e l'informazione verrà letta nella sua nuova posizione cosa può succedere allora? in questa nuova posizione il gene può essere letto con più frequenza e nel giro di una generazione da un topo piccolo si può ottenere un topo più grande in una generazione così e abbiamo un topo più grande non abbiamo fatto altro che prendere un gene e metterlo in una posizione diversa si può fare con un topo scuro uno chiaro non ha importanza un passaggio molto semplice ma se il taglio di quel gene avviene una lettera più in là cosa succederebbe? cosa si leggerebbe sulla sequenza? un pasticcio deve essere un processo preciso allora riflettiamo su questo la varietà intrinseca nel patrimonio genetico che consente di avere qualsiasi colore immaginabile qualsiasi tipo di pelo tutte le caratteristiche già presenti intrinsecamente nell'animale selvatico il lupo per esempio da dove vengono questi geni? quante possibilità abbiamo? il caso o un progetto? attenzione tutto quello di cui vi sto parlando ora ha a che fare col genotipo quindi si è sviluppato per caso tutti i geni tutte le varianti boom casetta boom casetta boom casetta boom casetta boom casetta per caso lo scambio riproduttivo vuol dire avere un maschio e una femmina e nient'altro fino all'arrivo della prole boom new york city un maschio e una femmina generati dal caso la meiosi il processo più complicato che l'uomo conosca boom venuta dal caso tutto il meccanismo da cui dipende la generazione di qualsiasi essere venuto dal caso il processo di crossing over durante la meiosi in base al quale posso avere una varietà infinita di figli sapete che grazie alla segregazione degli alleli durante la meiosi si possono ottenere 80 trilioni di bambini diversi e che se a questo aggiungiamo il processo di crossing over il numero di varietà diventa infinito se ci sono due individui identici in questa sala prego si alzino in piedi perché non si alza nessuno perché siamo tutti diversi e perché siamo tutti diversi perché i nostri geni hanno alleli diversi e anche se fossero uguali verrebbero espressi in maniera diversa questa è la varietà del patrimonio genetico la ricombinazione dei cromosomi da cui derivano tutte le diverse razze di lupi e di cani selvatici e di antilopi che abbiamo visto caso progetto la trasferibilità del DNA segmenti di DNA possono essere spostati da un punto all'altro caso progetto alcuni animali in particolare condizioni di stress riorganizzano completamente il loro DNA il loro DNA si rimescola ed ecco una sfornata di cuccioli completamente diversa per esempio la talpa senza pelo si comporta in questo modo stupefacente c'è una regina si riproduce in condizioni di stress mette in atto questo meccanismo ora tutti questi processi erano del tutto sconosciuti a Darwin e potevano accadere solo per caso o per un progetto dunque ora immaginate di essere un nuovo Darwin con tutto questo nuovo bagaglio di conoscenze arrivate sull'isola e trovate non i fringuelli ma un altro tipo di uccelli i loxops con tutte le loro varianti cosa pensereste eh? cosa pensereste direste beh siccome esistono tutte queste varietà che provengono da un'unica coppia non è stato Dio a crearle direste così no non lo pensereste affatto piuttosto direste wow che meraviglia varietà genetica non direste forse così ma certo quindi la varietà genetica deve essere intrinseca passiamo ora al genere umano esistono numerose razze ognuna con le proprie caratteristiche l'uomo si sa è generalmente più attraente della donna si vede subito e i diversi gruppi etnici ma prendiamo in considerazione i bambini così evitiamo polemiche possiamo vedere tutte queste diverse caratteristiche questa ragazzina è bianca cioè non proprio bianca diciamo di carnagione chiara in quest'altro giovanotto è scuro in questa vediamo che la forma degli occhi è diversa come in questo ragazzo filippino insomma tutte razze diverse da dove vengono? che differenza c'è tra l'uno e l'altro? forse qualcuno è superiore agli altri come alcuni credono? beh col nostro nuovo bagaglio di conoscenze sappiamo che non c'è alcuna differenza fra di loro a livello genetico la differenza fra la carnagione chiara e quella scura la fa solamente il modo in cui si manifesta il gene della melanina il mio organismo può produrre melanina possiede il gene per la melanina se mi stendo al sole mi abronzo quindi produco più melanina una persona nera ha semplicemente un ciclo di produzione più attivo per lo stesso gene quindi non c'è alcuna differenza a livello genetico è solo il meccanismo che lo controlla che viene attivato in maniera diversa cosa possiamo dire invece della differenza nella forma degli occhi fra etnie orientali e occidentali? beh dipende solo dalla quantità di grasso depositato nelle palpebre si tratta semplicemente di un processo biochimico che viene attivato dagli stessi geni che abbiamo noi occidentali perché anche noi abbiamo del grasso nelle palpebre quindi c'è una qualche differenza? no solo lo sguardo è diverso cosa determina il colore degli occhi? all'eli di serie diverse possiamo avere il marrone dominante il blu recessivo eccetera se avete per esempio due genitori con gli occhi azzurri e l'azzurro è recessivo i loro figli di che colore avranno gli occhi? azzurri se avete un genitore con gli occhi marroni e l'altro con gli occhi azzurri di chi colori saranno i vostri occhi? o marroni o azzurri se il genitore con gli occhi marroni possiede solo il gene dominante i figli avranno gli occhi marroni se invece il genitore ha un gene recessivo e uno dominante il colore degli occhi dei figli potrà essere l'uno o l'altro ai miei studenti la metto sempre giù così se entrambi i vostri genitori o almeno uno dei due hanno gli occhi marroni e i vostri fratelli hanno colori diversi va bene se entrambi i vostri genitori hanno gli occhi azzurri e i vostri fratelli hanno gli occhi marroni allora il padre è il postino ma anche in questo caso potrei sbagliarmi anche in questo caso potrei sbagliarmi perché a volte abbiamo un determinato gene e non viene espresso mettiamo il caso di avere il gene per gli occhi marroni e questo non viene espresso gli occhi potrebbero essere di un altro colore per esempio azzurri perciò siamo di fronte a un immenso assortimento di varianti in questa diapositiva vediamo una drosofila mulli e una drosofila digressa che hanno caratteristiche molto diverse vedete questa ha gli occhi rossi e quest'altra quasi neri alcune hanno gli occhi bianchi altre non hanno occhi affatto alcune hanno le ali lunghe altre hanno le ali corte altre ancora non hanno le ali alcune hanno un corpo altre ne hanno due ad ogni modo sono tutte mosche della frutta permettetemi un'altra domanda qui abbiamo un pianoforte supponiamo che i tasti del pianoforte siano i geni quante melodie potrei suonare? un'infinità un numero immenso una quantità infinita di melodie giusto? sì e se avessi una chitarra quante melodie potrei suonare? un numero infinito di melodie e potrei andare avanti con tutti gli altri strumenti ma quanti pezzi per chitarra potrei suonare col pianoforte? nessuno resta sempre un pianoforte ma posso eseguire numerose melodie la stessa cosa avviene col DNA quindi Dio deve essere un amante della diversità siete d'accordo? e tutti i sistemi genetici e le varietà che possiamo vedere sono un'espressione di quell'amore per la diversità questa è l'unica possibilità che abbiamo se non vogliamo credere che tutte le complesse strutture di cui abbiamo parlato stasera si siano sviluppate per caso penso che sia necessaria una dose immensa di fede per credere a una cosa del genere nessuna persona di buon senso guardando un orologio direbbe è stato creato dal caso e i processi che abbiamo visto verificarsi nelle cellule che si sarebbero sviluppati grazie al caso sono milioni e milioni di volte più complessi di qualsiasi altra cosa la mente dell'uomo possa aver mai immaginato su questa terra o altrove niente può essere minimamente paragonato alla complessità di una cellula che si sarebbe sviluppato per caso? quanto a me e alla mia casa preferisco credere in un progettista ma la scelta sta a voi se volete potete credere in un boom casetta grazie grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti